Nella mattinata di oggi i finanziari del nucleo di polizia economico-finanziare hanno messo i sigili ad una parafarmacia con un punto vendita della zona Stadio ed un altro nei pressi dell'ospedale della città d'Annunziana. Il sequestro è stato disposto dal GIP del Tribunale di Pescara su richiesta della locale procura della Repubblica a conclusione di una prolungata attività di indagine condotta dai finanziari. La farmacia già nel mese di marzo era stata oggetto di attenzione investigativa. I militari infatti avevano accertato che oltre 200 mascherine e confezioni di gel disinfettanti erano in vendita a prezzi da capogiro con ricariche superiori di gran lunga al 500% del loro prezzo d'acquisto. La titolare, una cinquantenne di Chieti, era stata denunciata alla Procura della Repubblica di Pescara per il reato di manovre speculative su merci che prevede la reclusione fino a tre anni e multe fino a 25.000 euro. La storia si è ripetuta in questi giorni quando le fiamme gialle, tornate nuovamente presso l'attività commerciale, hanno riscontrato ancora una volta le medesime irregolarità nella vendita dei DPI. In questa seconda occasione si è accertata la reiterazione della condotta illecita, per cui approfittando dello stato di bisogno dei clienti alla ricerca di dispositivi di protezione individuale, mascherine, confezioni di gel disinfettante e guanti monouso erano nuovamente venduti con margini di ricarico sproporzionati fino al 2.900%. Mascherine FFP1 o confezioni di guanti lattici monouso al prezzo di 17 euro oppure confezioni di gel igienizzanti ad 11 euro. Circa 6.000 i prodotti complessivamente sequestrati nell'occasione, con ulteriore denuncia a carico della titolare per il medesimo reato. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo della parafarmacia e pertanto nella mattinata di oggi i finanziari hanno posto i sigilli ai due punti vendita aziendali, siti in città. Ennesimo risultato raggiunto dalle fiamme gialle di Pescara sin dall'inizio della situazione emergenziale ed indirizzato al contrasto delle pratiche commerciali scorrette poste in essere da chi approfitta dello stato di bisogno dei cittadini indifesi. E riguardo le attività commerciali sospese nelle due giornate estive, particolarmente grave è risultato il caso individuato a Città Sant'Angelo dove in barba all'ordinanza del 7 aprile del presidente dell'Aggiunta regionale d'Abruzzo che vietava l'apertura nei giorni festivi anche delle attività di vendita di genere alimentare di prima necessità, una macelleria è risultata operativa il giorno di Pasqua e il cui titolare ha deciso di aprire la sua attività per vendere carne per le tavole pasquali. Alla pattuglia del nucleo Polizia Economico Finanziare aggiunta sul posto non è rimasto altro che sanzionare il titolare e provvedere all'immediata chiusura dell'attività commerciale oltre che ad identificare e sanzionare anche ben sette clienti che aspettavano il proprio turno per l'acquisto della carne.